Nuove turbolenze all'interno della maggioranza novese. Nell'ultima conferenza dei capigruppo, Marco Bertoli ha infatti annunciato il passaggio di solo nove all'opposizione, provocando inevitabili reazioni all'interno del centrodestra locale. Un gruppo del quale fanno parte anche Francesco Bonvini e Cristina Sabadin, eletti in quota lega proprio come Bertoli. Se non cambiano le cose, lo inviterò a esprimere le sue opinioni in consiglio comunale, commenta il sindaco Giampaolo Cabella. La goccia che ha fatto traboccare il vaso va attribuita all'invito alle dimissioni da consigliere a lui rivolto da parte del segretario cittadino di Forza Italia, Giuseppe Rapisarda. Da forza equidistante siamo ora passati all'opposizione, spiega Bertoli. Non avrei voluto farlo, ma quando si subisce un attacco da una forza politica che esprime vice sindaco, presidente del consiglio comunale e assessori, diventa inevitabile. I numeri vedono ora una maggioranza sicura composta da sette elementi, con un'opposizione formata invece da nove, di cui cinque provenienti dal centro-sinistra, tre dal gruppo di Bertoli e uno dal Movimento 5 Stelle rappresentato da Lucia Zippo, con quest'ultima che rimane tuttavia scettica in merito all'effettivo cambio di rotta annunciato da Bertoli. Di fronte all'ennesimo scontro all'interno della maggioranza ribadiamo che la nostra città ha bisogno di un'amministrazione seria, autorevole e operativa, scrivono i democratici per Novi. Il teatrino che da due anni sta mettendo in scena la destra è profondamente dannoso per Novi. Cabella ha prendato del suo fallimento politico e del fatto che non ha più i numeri né un progetto amministrativo. È giunta l'ora che si dimetta. Da valutare invece la posizione di Francesca Chessa, ex azzurra, poi passata a Fratelli d'Italia, spesso allineata con solo Novi, nonostante la fiducia espressa nei confronti dell'attuale giunta dopo il cambio di casacca avvenuto poco meno di un anno fa. Ritengo che la richiesta di dimissioni di Bertoli, arrivata dalla segretaria di Forza Italia, sia stata intempestiva, oltre che inopportuna, sottolinea Chessa. Negli ultimi due anni solo Novi ha sempre votato le questioni importanti insieme alla maggioranza. Io continuerò a votare secondo coscienza e per il bene dei novesi. Numeri alla mano, su un totale di 16 consiglieri più il sindaco, pare più che mai evidente la precarietà della maggioranza. Il primo vero banco di prova per la tenuta del governo cittadino sarà il voto sul bilancio consuntivo, atteso entro poche settimane. La sensazione è che il documento possa essere ugualmente approvato, in attesa di ulteriori valutazioni politiche da parte dei dissidenti successiva al suo via libera. Una caduta della giunta prima del nulla osta porterebbe infatti al commissariamento e a una conseguente forte limitazione in tema di investimenti al di fuori del cosiddetto disbrigo degli affari correnti. Va infine tenuto conto che la prossima finestra per eventuali elezioni amministrative non si aprirebbe prima della primavera 2023.